Cinquantesimo appuntamento radiofonico settimanale con la voce al sindaco, la rubrica di approfondimento della testata giornalistica di Radio Dimensione Musica. Il primo cittadino ispicese, Innocenzo Leontini, discute al microfono del nostro direttore responsabile, Piero Giunta, sui fatti sociali e politici avvenuti durante la settimana appena trascorsa. Il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, come sempre fa il preciso e puntuale punto informativo settimanale sulla situazione del Covid-19 ad Ispica. E riflette alla voce al sindaco sull'alluvione dei giorni scorsi che ha provocato per fortuna pochi danni. Inoltre il primo cittadino ispicese ragiona al nostro microfono e risponde al presidente di Valia Voglia di Ispica, Marco Ruffino, che è intervenuto nel dibattito politico con un'intervista rilasciata venerdì scorso alla nostra emittente sulla PUDM. E siamo arrivati al cinquantesimo appuntamento con la voce al sindaco. Possiamo dire che un piccolo traguardo è stato raggiunto. Sindaco, la mia prima domanda non cambia. Ci dia gli ultimi aggiornamenti sui dati Covid in città. Grazie Piero. Buon inizio settimana a te e a tutti i collaboratori di Radio Dimensione Musica e ai radioascoltatori che ci ascoltano. Per quanto riguarda il Covid i casi censiti ad ispica oggi sono due, ma sono due da tre giorni. Stiamo riuscendo a respingere e perché no a sconfiggere le aggressioni del virus. Continuiamo così. Evitiamo gli assembramenti, usiamo sempre le mascherine e soprattutto vacciniamoci. Sempre più numerosi i vaccinati riusciranno ad immunizzare la città e la sua popolazione. La settimana che ci siamo lasciati alle spalle lo ha visto impegnato più che altro sul fronte dell'emergenza alluvioni. Infieme a lei hanno collaborato gli uomini e le donne dell'Associazione Futura e della Croce Rossa. Ce la siamo cavati con pochi danni. Da questi microfoni ne ho parlato con il suo esperto in materia di protezione civile, il dottor Massimo Di Benedetto e la mia domanda è questa, sindaco. Tutti gli anni gli ispicesi possono vivere con la paura e l'incubo degli alluvioni? Ancora sono vivi il ricordo e le macerie dell'alluvione di due anni fa. C'è stata la passerella dei politici, ma poco o nulla si è fatto. Sindaco, a lei la riflessione. In questi giorni abbiamo affrontato l'emergenza meteo. Il previsto cattivo tempo non ha prodotto danni alle persone. Ha causato qualche frana o qualche caduta di massi, come è accaduto lungo la strada barriera, la caduta di qualche traliccio, ma nessuna esondazione o allagamento grave. Abbiamo comunque riscontrato infiltrazioni in alcuni edifici pubblici, danni alla viabilità rurale, cittadina e a qualche edificio. Stiamo approntando una relazione. Io colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a mantenere costante e capillare il controllo del territorio, tutti i componenti del COC, l'ufficio comunale di protezione civile, con il suo responsabile geometra nicito, i tecnici comunali Caschetto, poi domani Migliorino, Puglisi, sempre presenti e efficienti, i vigili urbani. Ringrazio in modo particolare tutti i volontari del gruppo comunale di protezione civile, dell'Associazione Futura e della Croce Rossa. Ringrazio Massimo Di Benedetto che come esperto del Sindaco ha lavorato assieme a tutti gli altri per coordinare tutte le fasi e le operazioni necessarie. Nei prossimi giorni attiveremo una pulizia straordinaria dei canali, specie di quelli con sbocco a mare. Nei giorni scorsi avevamo già affrontato questi lavori, avevamo liberato il ponte della Mivicia che ha consentito un deflusso regolare delle acque, anche se bisogna dire che in questa occasione i canali, soprattutto quelli interni, hanno svolto una loro funzione positiva facendo regolarmente defluire le acque senza esondazioni. Ci stiamo impegnando ad evitare che altre eventuali emergenze, speriamo non frequenti e nemmeno prossime, ci trovino in condizioni di temere pesanti conseguenze. Per il resto nessuno è al sicuro, basti considerare quello che è accaduto a Catania, nel Catanese, a Siracusa, ad Augusta e in altre parti delle due province. Quando si verifica una bomba d'acqua con il massimo della precipitazione nel più ristretto arco temporale sono guai per tutti, da Bolzano a Lampedusa. Ecco sindaco, ritorniamo a parlare di politiche ispicefe, come a me piace definirla quella in carne ed ossa, che tutti i giorni fa le scende le scale di Palazzo Bruno. Venerdì è venuto a trovarci in redazione giornalistica della nostra radio il presidente del movimento politico valia voglia di ispica, Marco Ruffino. Come al solito abbiamo scambiato a microfono acceso quattro chiacchiere sul Pudim, che indubbiamente ha aperto una discussione all'interno dei movimenti politici ispicesi. Lei sicuramente avrà orecchiato o meglio sentito la mia chiacchierata con Marco. C'è qualcosa che non la convince? Cos'è che mi dice? Sull'argomento Pudm, piano di utilizzo del demanio marittimo, definito convenzionalmente piano spiagge, ho da fare delle precisazioni brevi. Prima precisazione, l'incarico di elaborare il Pudm all'architetto Franco Donzello è stato conferito dalla precedente amministrazione il 3 gennaio 2019. La proposta progettuale è stata depositata il 2 settembre 2019. Presumo che all'architetto Donzello siano state date delle indicazioni da parte dell'amministrazione precedente. Non posso immaginare che il professionista sia stato lasciato libero di elaborare a suo piacimento. Ma comunque, dal 2 settembre 2019, data del deposito della proposta progettuale, al 5 ottobre 2020, data delle elezioni amministrative, è trascorso un altro anno infruttuoso. Non mi pare che in questo periodo ci siano stati degli incontri o delle occasioni di concertazione. Seconda precisazione, la giunta Leontini si è insediata il 22 ottobre 2020. Appena un mese dopo, alla fine di novembre 2020, l'assessorato territorio e ambiente ha comunicato che stava provvedendo al commissariamento del Comune di Ispica sul Pudm per inadempienza. Mi sono recato personalmente presso l'assessorato, con l'assessore Denaro, presso l'assessorato regionale al territorio e ambiente, e ho ottenuto dall'assessore onorevole Toto Cordaro una proroga dei termini per la presentazione del Pudma, adducendo la motivazione che ci eravamo appena insediati e non potevamo scontare le conseguenze di ritardi accumulati prima. Abbiamo ottenuto la proroga e per far presto abbiamo preso la proposta progettuale, così come era stata formulata, e quasi a scatola chiusa e senza entrare nel merito, se non con alcune piccole variazioni, siamo stati costretti ad approvarla in giunta il 30 dicembre 2020 e il 31 l'abbiamo inoltrata agli uffici regionali. Ovviamente ci siamo riservati, parlandone con l'architetto Franco Donzello, che è stato veramente professionale, competente e disponibile ad ascoltarci, ci siamo riservati di sottoporla alle nostre osservazioni quando ci sarebbe stata restituita dall'assessorato regionale. E così abbiamo fatto. Quando la bozza è ritornata da Palermo, l'abbiamo sottoposta alla soprintendenza e sulla base delle prescrizioni ricevute abbiamo rielaborato lo strumento e l'architetto Donzello si è impegnato a farlo nel modo più scrupoloso e preciso. Quindi abbiamo avuto il merito di salvare dal commissariamento e di sottoporre a modifiche lo strumento precedente. Io ritengo che queste modifiche siano veramente ineccepibili perché riducono sensibilmente il numero degli stabilimenti previsti, rispettano tutti i vincoli esistenti, mantengono una prevalenza di spiaggia libera e si adeguano ad una visione di turismo sostenibile che è quella che nel nostro programma abbiamo fatto nostra. E' chiaro che tutto questo lavoro è stato oggetto di una approfondita riflessione al nostro interno. Io e l'assessore Denaro abbiamo avuto anche due incontri con i rappresentanti di Lega Ambiente con molta disponibilità e con il rappresentante di Valia. Successivamente si è svolto un altro incontro online tra il rappresentante di Valia Marco Ruffino e l'architetto Donsello. Quindi c'è stata una prima attività non dico di concertazione ma comunque di valutazione e di confronto. Nei prossimi giorni tutto questo lavoro sarà sottoposto dall'assessore Denaro che ha seguito tutto l'iter da capo a fine proprio accelerandolo, sollecitandolo a quanti vorranno conoscerlo e vorranno valutarlo prima dell'insediamento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Così sarà più facile pervenire ad un dibattito più tranquillo, più consapevole più costruttivo, più sereno e pervenire ad una approvazione definitiva. Quindi noi ci confrontiamo con tutti senza pregiudizi. Lo stesso chiediamo ai nostri gentili interlocutori. Con la voce al sindaco appuntamento al lunedì prossimo Ringrazio Inocenzo Leontini Piero Giunta per Radio Dimensione Musica Ringrazio Inocenzo Leontini Ringrazio Inocenzo Leontini